Questo di oggi è sicuramente un intervento che inorgoglisce la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Il restauro della cappella della Sagrada Famiglia qui a Santa Maria in Fraportas è stata un'operazione molto importante perché si tratta di uno degli artisti di Foligno più importanti del Novecento. Gli affreschi purtroppo si stavano perdendo, l'intervento è stato immediato, celere e bisogna ringraziare tutti coloro che hanno capito che bisognava intervenire subito. Sono Gianluca De Longu, funzionario storico dell'arte della Sorintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e abbiamo presentato oggi questo intervento di restauro del ciclo decorativo della Cappella del Divino Amore dedicato al tema della Sagrada Famiglia. è un ciclo del 1924 del pittore Folignate Ugo Taramuzzi.